Qui Rezif e benvenuti ragazzi sul Catriga, oggi ragazzi andremo a fare una cosa assurda, oggi andremo a fare Qua Po, e quindi praticamente è una cosa assurda perché ad un certo Ah, non Ah, ragazzi Vi ho fottuto un'altra volta ragazzi, pensavate se fosse il buffer Invece no, era un effetto editing, la vostra connessione è perfetta So che vi ho fatto Riavviare il video, rifresciare, rompere il modem Era sempre carina come l'ultima volta, quando ho messo il muto al video Sono idee che mi vengono in mente all'inizio, sembrano graziose Poi capisco che faccio solo del male, madonna quando metto il boost cosa, come mi si illumina il culo Che, detto così, è brutto ma Ogni vuoi una mamma sua, cioè Un cazzo però era carino a dire Eh, però dai, mezzo tank l'ho fatto Te la passo Eh no dai, ma non mi annullare questo bel passaggio bellissimo Arrivo io col drone Non so Eh zitto Aspetta, devi rompere Omae wa mou shindeiru NANI Owa takubi de kizebu Ma sei pazzo Fermo, fermo NANI NANI Oh, mai là 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 Uh là là, ragazzi, un gol fantastico Annullato da sto palo di merda Però è bello, ragazzi Qui, ragazzi, benvenuti, ragazzi, su questo appuntamento Benvenuti, ragazzi, su questo appuntamento fantastico Su Quattilig Perché? Perché tagli di fra rotazione? Sei bravissimo, sei il numero uno Taglia quanto cavolo vuoi Ragazzi, come taglia lui il filo del fio Non le taglia nessuno La tattica segreta Ci siamo, ci siamo, fatela sbattere Grandi, abbiamo vinto, ragazzi Non andrò in retrocessione Sono troppo forte Ce l'abbiamo fatta Da non rifare mai più Non ho capito Scusami Che cazzo vuol dire? Che io vinco e mi fa retrocedere? Presidente, ragazzi, vi ricordate la... Il video dove... Che cazzo sto dicendo? Dove siamo... Calmiate, calmiate L'importante è calmarci Vi ricordate il video dove ho utilizzato la grafica al massimo? Ecco Parlando così parlo bene Vai... No, che take the shot Non vedo un cazzo Ragazzi Non si capisce niente Ma io sto correndo, ragazzi Io sto correndo Sì Raga, è morto Come sparano Occhio, Ray All'attacco Ma penso di me Sì Ragazzi, sto pure io, raga Uè, buongiorno belli Buongiorno Uh, scappa Scappa Ho due HP Presi, presi, presi Ho rotto Droni Droni C'è ti odio È stato disinarato Ma dici che ci arriviamo adesso? Si Io no Poi dici perché voglio Oh no 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 Oh ma come ti permetti Ma di vero che ti insulto io no Fratello Oh no no Oh la puttana Fratello attaccano Scappa Madonna Oh Qui resi per benvenuti ragazzi Oggi ragazzi andremo a fare L'1v1 ragazzi Ho pensato così a volo Non ci penso un'altra volta Se no poi me ne pento L'accia di cazzo Poco fa l'intanto la battuta Che cacchio vuoi Mi ce l'acchi a me Ma petta In cucelo Non c'è rimasto niente di lui ragazzi Raga ma Ma si ti Ma se sentite il rumore ragazzi Bellissimo il rumore Diretti pass Nessuno che mi scrive è bel tiro Ma fate schifo La nostra octane bianca Scintillante Perfetta E andremo a perdere Tutte e due le partite Nuova challenge Per me Easy Cioè come pane ragazzi C'è un cazzo Per perdere le partite Per me Che cazzo ci vuole ragazzi Oggi andremo a fare Il 3-3-3-3-2-0 standard Ragazzi Con una macchina bellissima Accattivante Con una skinna assurda Shoppata Dai peggiori venditori Ambulanti La Roadhog XL E ho sopra Quello Però ragazzi C'è da dire Che sono di Manta 3 Divisione 2 E che quindi perderò pure quel rank Questo episodio È disastroso in tutto Nella macchina Nel topper Nel rank perduto Nella dignità Che fra poco cadrà Perché non ho mai utilizzato La Roadhog XL La Roadhog punto Poi quell'XL Già è Peggio Per conestamente Diventare il champion 1 Nel 3-3-3-3-2-0 standard Sarebbe una Grande ricompensa Per un grande giocatore Come me No non lo pensate Neanch'io Quindi siamo tutti d'accordo Qui Resive Benvenuti In questo fantastico video Ragazzi Oggi siamo su Rainbow Non è vero Siamo su Rocket E siamo ragazzi Nel 3-3-3-3-0 standard In quarto E gli ultimi due episodi Sono retrocesso a merda Pur vincendo Ma il gioco mi ha fatto Retrocedere vincendo Capite? Capite l'intelligenza Di questo gioco È scriptato a merda Malissimo però Giro 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 Bravissimo Sei bravissimo È molto bravo ragazzi Va bene Era bello tranquillo ragazzi Mi sono pure girato lento Era bello tranquillo Per i cazzi miei Vabbè L'ha passato Siamo già in zona Oh 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 Qua è morto qualcuno Facciamo un fortino Epico finito Aspetta aspetta Dove indagare Qua è morto qualcuno Fermo Fermo Sherlock Cosa dici Qua qua Vedi la X Vedi la X Qua hanno segnato Il territorio Qua Vedi vedi Madonna Aspetta aspetta Fermo Guarda Guarda Graffi Guarda Hanno combattuto Contro un orso Qua Vedi Graffi Ho capito Qua 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 Hanno segnato le coordinate Tipo c'è tipo Un drop segreto Sicuramente Qua Ce n'erano altri due No 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 Altri due Sulla montagna No Lì ho uccisi io Altri due Sulla montagna 150 Io due ne ho uccisi Qui qui Oltre questo ho tre Ho tre kill Ora le ho uccisi due Io ho tre kill ora Ok ma ora Dico ora ne ho uccisi tre No Ok Ora quando Ora ho visto Quando Prima Un secondo prima Quello mi sparasse Io ne ho visti due Davanti a me A 120 Ah ok ok No 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 Non ho visto Ok Qui resi Ma benvenuti ragazzi Stroke the lake Entro peggiore di questo Non potevo fare Però siamo sul due di due Ragazzi doppio Sì standard Doppio standard Sì sì Ranked Oggi con lock 10 Andiamo ben tranquilli Per riconquistare Il nostro champion Fra quattro episodi Perché siamo comunque Diamante 3 Di se ne è uno C'è stata una decadenza Incredibile ragazzi Cosa fa quell'arma Ho sentito Ho rotto il Ehi Che conto da mia Sì 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 Sì